Però la gente è curiosa di sapere. Niente, signora Rosa, io mi porterò mia moglie a mare. Scusi, perché lo sta dicendo con quest'area da funerale? Lei deve dire, io mi porterò mia moglie a mare. L'anno scorso me la portai a Cireale. Poi ci disse, Croci, ma perché non la chiamiamo del su? La chiamata Croci? Croci o Fissa, non me lo ricordo. Perché lui la chiamava? Lei usava che Fissa c'è sta mica, no? Non lo so, lo dice lei, quindi. Cessa Croci, perché non la chiamiamo da sopra? Sì. Che raccogliamo i cosa, come si chiamano? I chiappere. I chiappere. I chiappere. Ce ne arrabbranchichiamo fino a là. La timpa, diciamo. Ardimentiamoci. Ardimentiamoci, sì. Che? Era strapiombo da sopra. Eh beh, certo. Cessa Croci, l'hai visto che bella pianta di chiappere che c'è da in punta? Non c'è andare, che è pericoloso. Lei glielo diceva? No, no, mi piace, ci vuoi, stai attento. Sì. E se mi si è in punta in punta. La mente non vi li capito. Certo. Quindi sua moglie era proprio sulla punta del precipice. Stai attento che poco scarica. Perché lei com'era? Prudente? Stai, no, non ti preoccupare che stai attento. Attento. Mi girai. Sì. Cisse, guarda, c'è anche un'altra pianta qua. Ma caldo. Dice, ahhh. Ma io ho pensato che lei in quel momento soffrisse. Che casca signor La Rosa. Questa è sua moglie che casca. E poi senteva, è stato. Ah, dove? È stato. Forse era bastato. Forse. Sì, sì. Perché il finale è simile. Non mi ricordo, non mi ricordo. Sì, sì, sì. Quando uno ha passato a un malodestino. Qual è? Non cimbincia a bratella. O sto incipetto. Ah, del reggiseno, sì. Sabe che adesso sono gli alberi che ne escono così? Sono degli spuntoni, sì, sì. Che cimbincia a bratella, da quella cosa, scraziata. Che dice un... Come un elastico. Ma la tornavo, a bratella, ma la tornavo da sopra. Come erano dall'aria, io non le capigliavo. Ci davano a un tramontone. Sì. Scendeva. Ha fatto sette volte a chiare scende. L'ultima volta, oh. L'ultima volta a chiarevo, con loro andavo, capisci? Non scendeva male. Con un pesce? Sì. Con loro. Con loro tanto andavo. A Dupondo disse, ma un bel pesce che faccio? Un pizzo, matare. Sì. E non mangiamo il rostuto. Vabbè, d'accordo. Ora quest'anno mi ha riporto. E ha salvato sua moglie. Meno male, meno male.